Quindicesimo All Star, Coby, come ti fa sentire essere di nuovo qui e qual è il tuo segreto per essere sempre al top? Beh, mi sento giovane, sono molto orgoglioso per essere qui adesso, sono stati moltissimi anni a giocare questo gioco. Per essere al top, mangio broccoli, dormo molto, faccio i best e mi piaccio. Laker per la vita potresti un giorno forse decidere di giocare in Italia? Magari, magari, vediamo, vediamo come mi sento in due anni o tre anni, non so. Mi piacerebbe moltissimo ritornare e giocare, magari se non un campionato in totale, magari due o tre partite. Qual è il vantaggio di imparare a giocare in Italia? Beh, ho imparato il gioco fondamentale di pallacannestre perché quando stavo crescendo in Italia, qui in America, i giocatori stavano imparando il gioco che era troppo flash, sai, il palleggio tra le gambe, dietro la schiena, tutte le cose così. Io quando ero piccolo in Italia mi hanno insegnato a giocare il gioco più semplice, sai, giocare con la mente, non fisicamente. Confronto diretto tra te e LeBrono, one on one, chi vince? No, vincio io, sicuramente. Un saluto all'Italia. Ciao a tutti in Italia, ci vediamo magari quest'estate, ritorno con famiglia. Le ho tanti baci. Tobi, 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 Ton-E.